ciao a tutti i folettini e folettine bentornati in questo nuovissimo video oggi videocambio di scarlet a tema natalizio sì io sto ancora in pigiama perché mattina è un pigiama di quelli col cappuccio a coniglietto molto carino preso dai cinesi nuovi che hanno aperto qui a tolmezzo beh allora iniziamo le metterò questo fiocchetto che ho fatto io era un elastica col fiocchetto io ho tolto l'elastica e ho recuperato questo l'ho calamitato e ho fatto un fiocchetto poi le metteremo questo bellissimo completino natalizio e la spazzoleremo con questi due prodottini la spazzola è questo qui volevo dirvi che questo video è in collaborazione con giovane mascare born che saluto e ringrazio un bacio caro allora iniziamo togliamo le le scarpette togliamo il ciuccio volevo anche farvi notare guardate le unghie che mi sono fatta prese dal nuovo cinese sono quelle finte sono bellissime io le adoro adesso finalmente non ho più le unghie rovinate ma sistemate continuiamo togliamo le pantalancino estivo ecco la maglietta estiva questo fiocchetto che non serve vi ricordo che questi sono video role play fatti solo per far divertire la gente che mi segue i miei followers più accaniti che adorano questi video e li ringrazio tanto perché mi supportano sempre grazie a tutti di cuore ecco qui apriamo ecco qui ecco qui ecco qui Ecco qui. Le sta veramente benissimo a Scarlett questo completino natalizio. E' veramente molto molto bellino. Ecco qui. Ecco qui. Quindi guardate com'è bella con questo completino, la piccola Scarlett. Ecco. Adesso le spazzoliamo i capelli. Eccola qui. Le mettiamo il fiocchetto. Tadà! Guardate com'è carina. Beh, che dire, folettini e folettine. Se questo video vi è piaciuto mettete tanti like. Ringrazio ancora Giorgia, nel canale Gioro Mascarevon, che vi lascio giù nell'info box. Per chi volesse mandarmi un pacchetto, può farlo col fermo posto, che trovate giù nell'info box. Per chi volesse mandarmi un'email, può farlo all'email malgratia.catalano.ghiaccio.me.it. Io vi ricordo di scrivere fermo posto a primo dell'indirizzo, altrimenti i postini li manderanno indietro il pacchetto o la letterina. Vi mando un bacione enorme. E alla prossima. Ciao a tutti! Ciao! Ciao!